Riviare i saldi estivi che in Sardegna prenderanno il via il 6 luglio a chiedere il Presidente della Confesa Esercenti di Nuovo Gliastra Roberto Cadedu che su sollecitazione degli operatori del settore ha inviato una richiesta in questo senso alla storia regionale al commercio Gianni Chiesa. Secondo quanto scrive il Presidente Cadedu il clima del poco bizzarro che sta caratterizzando la primavera in corso sta mettendo letteralmente in ginocchio gli operatori commerciali del settore moda, già mortificati oltre che dalla più generale crisi dei consumi alla continua quanto inesorabile crescita delle vendite online. Naturalmente un'eventuale decisione è presente al senso, si legge nella lettera inviata da Cadedu all'assessore regionale, avrebbe senso ed esplicerebbe i suoi effetti positivi solo se accompagnata da una campagna di sensibilizzazione dell'assessorato verso le amministrazioni comunali affinché possano essere più presenti ed efficaci nell'attività di contrasto alle pratiche scorrette in materia di promozioni che come tutti sanno risultano essere vettate nei 40 giorni precedenti i saldi. Il settore commerciale nel suo complesso, sottolinea Cadedu, soffre di tanti problemi rimasti risolti nel tempo, soprattutto a causa della scarsa attenzione che al comparto ha riservato alla politica. Noi crediamo che se non si riuscirà a riaffermare un principio fondamentale, quale è quello del rispetto delle regole, tutto sarà inutile, i problemi continueranno a stare lì e accompagnarci nel percorso che sta portando il commercio di prossimità ad estinguersi.